Cari amici di Telea1, siamo in compagnia del sindaco di Corigliano Rossano, ingegnere Flavio Stasi, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Sindaco, noi registriamo ancora una volta quotidianamente segnalazioni su disagi, problematiche afferenti alla zona di contrada cubica e zone affini. Ce ne siamo occupati in passato. Perché il problema non si riesce ancora a risolvere? Soprattutto quali sono anche i tempi e le modalità con i quali l'amministrazione intende affrontare questo problema? Ma ricevete segnalazioni perché i disagi ci sono, la strada della cubica è una strada sterrata senza raccolta delle acque, lo è credo da decenni, piuttosto dei soliti interventi tampone noi abbiamo deciso di risolvere definitivamente il problema, così come abbiamo detto qualche settimana fa, con un progetto per la raccolta delle acque e per il manto bituminoso. Il progetto è terminato, lunedì si partirà con la gara per l'affidamento dei lavori, per cui poi ci vogliono soltanto i tempi tecnici per fare peraltro non solo la strada della cubica ma anche quella di contrada bonifacio che sale fino a Ponte Margherita. Per cui quella è un'arteria importante per noi che può decongestionare anche, soprattutto quando ci sono le scuole, lo scalo di Corigliano e per questo abbiamo fatto questa scelta, abbiamo investito circa 130 mila euro in questo progetto. Sindaco, si parlava di tempi tecnici, visto che il problema soprattutto si è ripresentato adesso anche con le prime piogge, cosa si può fare per cercare di tambonare al meglio il problema, visto che lì esistono attività commerciali, abitazioni, ci sono anche gli uffici dell'azienda sanitaria, visto che è divenuta impraticabile, come lei sa, perché ce ne siamo anche occupati, la strada proprio nella quotidianità. Ci sono passato ieri, ma come abbiamo fatto circa dieci giorni fa, provvederemo adesso a fare un intervento con i mezzi meccanici per ripristinare quantomeno la percorribilità. È chiaro che le piogge potrebbero di nuovo far ripresentare il problema. Ecco perché abbiamo deciso di investire questa somma importante per risolvere definitivamente questo problema per la cittadinanza. Sindaco, noi abbiamo dato atto ieri di una importante iniziativa dell'amministrazione comunale, quella delle fototrappole, che sappiamo già che sta dando dei primi riscontri, nonché anche della pulizia della stessa contrada cubica da parte delle corosse e dei rifiuti incombranti che vengono gettati per terra da alcuni ingivili. Quali sono, se li abbiamo anche dei primi numeri, forniti proprio dall'azione delle fototrappole di questo importante strumento di ausilio al rispetto dell'ambiente? Ma nella prima fase siamo già arrivati a circa 2.000 euro di verbali. Ieri abbiamo provveduto a bonificare altre aree, tra cui quella della Camera di Commercio, che continua ad essere bersaglio purtroppo di incivili anche questa mattina, nonostante sia stato pulito. E lì, proprio questa mattina, abbiamo deciso di montare un'altra fototrappola. È un'azione importante che tende a valorizzare la maggioranza dei cittadini che sono civili da quelli incivili che purtroppo continuano a insozzare la nostra città e che si vedranno recapitare dei verbali come giusto che sia. Infine, Sindaco, noi ci siamo occupati del problema delle buche stradali, soprattutto in Viale Salerno, anche a Schiavonea. Un problema anche qui oggetto di un volte malcontento della popolazione. Cosa ha fatto? Cosa intende fare l'amministrazione, soprattutto per quanto riguarda il Borgo Marinaro? Ma intanto, subito dopo la mareggiata, noi abbiamo fatto degli interventi di bitumazione a Schiavonea, dei luoghi soprattutto nei pressi del Borgo Marinaro, nei pressi del Lungomare. Abbiamo fatto gli interventi di alcune situazioni di pericolo che credo c'erano da molto tempo, sicuramente da prima del nostro insediamento. Lì adesso abbiamo un problema, che è lo stesso che abbiamo avuto salendo al centro storico, che è quello di questi lavori della rete, della fibra, dell'Enel, che non sono stati ripristinati correttamente. Già il dirigente ha provveduto a scrivere una lettera e se saremo costretti, così come abbiamo fatto per quanto riguarda il centro storico, toglieremo l'autorizzazione qualora questi lavori non dovessero essere ripristinati correttamente con tre metri di banto stradale. Per il resto, non appena il meteo ce lo consentirà, noi interveremo per mettere in sicurezza le strade. E allora, noi ringraziamo il sindaco di Corigliano Rossano, ingegnere Stasi, per averci fornito queste delucidazioni, questi aggiornamenti su queste problematiche. Naturalmente, come mi intende, continueremo a tenere alta l'attenzione e con l'ausilio che vengano risolti al più presto questi disagi per i cittadini nell'interesse della comunità amministrata. Grazie.